Le scarse notizie sulla sua vita hanno sempre fatto dubitare della reale esistenza di una santa Caterina d'Alessandria d'Egitto. La stessa Chiesa Cattolica ha spesso espresso i suoi dubbi, culminati nell'esclusione del martirologio tra il 1962 e il 2002, nonostante il permesso del Vaticano di festeggiarla ugualmente. I dubbi sulla sua esistenza storica hanno spinto la Chiesa Cattolica ad escludere Santa Caterina dal martirologio romano dal 1969 al 2002, ma anche in quel periodo il Vaticano non proibì il culto della Santa come dimostrano le tante Chiese ad essa dedicate. Dal 2003 la memoria liturgica è stata ripristinata nella Chiesa Cattolica, seppure come memoria facoltativa che si celebra il 25 novembre. La leggenda di Santa Caterina, narrata anche nella leggenda aurea, è ricca di episodi e molto bella, elemento che va a favore del fatto che possa essere stata molto aggiustata, arricchita e ha molti motivi forti, come quello del supplizio della ruota che sono entrati nell'iconografia. Si elimina la commemorazione di Santa Caterina, iscritta nel calendario romano del secolo XIII. Non solo la passione di Santa Caterina è interamente leggendaria, ma sul suo conto non si può affermare nulla di sicuro.